Alle ore undici del quattordici luglio, dalla camera usciva Togliatti, quattro colpi gli furono sparati da uno studente vile senza cuo. L'onorevole a terra colpito, il soccorso venne immediatamente, lutto e grida ovunque si sente, accorron subito deputati e dottor. L'assassino è stato arrestato dai carabinieri di Monte Citorio e davanti all'interrogatorio ha confessato dicendo così. Già da tempo io meditavo di riuscire in questo delitto, appartengo a nessun partito, è uno scopo mio persona. Vita Montagnana che è al Senato, con i dottori e tutto il personale, ha portato il marito all'ospedale, sottoporlo alla operazione. L'onorato chirurgo Valdoni, con i ferri che sa adoperare, ha potuto la pallottola levare, e la vita potergli salvare. Un gesto insano, feroce e crudere, un capitato dei lavoratori, e un testo in un'unità. Grazie.